questo è il secondo angolo questo per chi ama seguire un po i colori di tendenza quest'anno il colore rosa il vinaccia il rosso bordeaux e qui abbiamo proprio concentrato quello che è l'eleganza massima per il vostro natale potete trovare tutti i decori dalle bacche dai fiori innevati tutti sulle tonalità del rosa possono essere anche delle orchidee innevate che sono molto belle le sfere per fare il vostro albero dei fiori che poi non sono neanche prettamente natalizi però nel contesto sono molto belli oppure anche le lucette e tutte le decorazioni sulla dal rosa al rosa antico proprio il colore che quest'anno va per la maggiore e domani vi presentiamo il nostro terzo angolo Grazie a tutti